Salve a tutti, siamo in diretta da Sanremo e siamo Milena e Giada. Siamo due ragazze di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenze, siamo venute con la scuola che si chiama Liceo di Tommaso Campanella e siamo qui proprio per esplorare la città in questo periodo particolare in quanto vi è il Festival di Sanremo e inoltre abbiamo anche il Liceo musicale che ha la possibilità di assistere a una prova nel Teatro Ariston. La nostra scuola ci offre un'esperienza fantastica, questa possibilità non è data da tutti, infatti siamo fieri della nostra scuola anche perché come ben si sa il sud è sempre molto discriminato ma nonostante tutto ci sono dei giovani talenti che devono essere conosciuti e niente, siamo il signor Gianni Testa per la possibilità di apparire in televisione e soprattutto perché comunque ci dà la possibilità di esprimere quello che stiamo provando in questi giorni infatti si respira un'aria bellissima, fiori, musica Siamo davvero entusiaste di tutti questi avvenimenti cioè è un'emozione in ogni angolo della città e niente, salutiamo tutti i nostri amici di Bla 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 il signor Gianni Testa di nuovo e un saluto anche alla nostra scuola i ragazzi che non sono potuti venire e quindi mandiamo un grande bacio e alla preside che ci ha dato questa grande opportunità e un bacio a tutti e a tutta la Calabria Bla 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 Grazie a tutti i nostri amici di